Fino a questo momento, qual è il punto che ti ha colpito più di tutti nel congresso con Giuliano? Io Giuliano lo conosco personalmente da diverso tempo, so che ha fatto un percorso di formazione personale molto valido, lo ammiro per questo. La cosa che mi ha colpito di più è la sua tranquillità nell'esporre questi concetti che magari per alcuni possono essere, non dico ostici, però non sempre ben digeriti. E' anche perché ci si mette in discussione davanti a quello che dice lui, quindi il nostro modo di fare, di vivere l'esperienza di imprenditore viene messa in discussione e dobbiamo veramente capire cosa stiamo facendo. Lui lo fa in maniera molto sincera, molto schietta, apprezzo molto questo modo di fare. Se potessi fare una domanda al volo a Giuliano cosa gli chiederesti? Non saprei, è già la seconda volta che vengo a vederlo, mi piace ascoltarlo, nonostante ripeta le cose che già so, già sa, già io so, però mi piace, mi piace. Non so, gli faccio i miei complimenti e continuerò con lui sicuramente nella formazione. Grazie. 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 Grazie.